Periodo purtroppo di furti d'auto in città, furti che si stanno canalizzando nella zona in cui ci troviamo oggi, quella di Pentagono e Celletta. Diverse le segnalazioni giunte alla questura di Pesaro in questi giorni, diverse anche le segnalazioni di voi telespettatori a Rossini TV. Come le foto che vi mostriamo ora, inviateci da Emanuela, una nostra telespettatrice, portiere delle auto forzate e ladri introdottisi all'interno delle macchine per razziare pezzi appunto d'automobile o oggetti all'interno. E la foto che vi mostriamo rappresenta solo uno dei tentativi meno riusciti, perché nella notte fra mercoledì e giovedì sono state rubate due auto, una Volkswagen Tiguan e una Polo fra Via del Novecento e Via d'Ambrosi. Modelli particolarmente graditi o di facile effrazione perché anche nel parcheggio fra Via Veretti e Via Chiti, dove ci troviamo ora, si è registrato il tentativo di furto di un'altra Polo. Ladri che poi sono penetrati anche all'interno di una Fiat 500 dalla quale è stata asportata una centralina. Furti che nelle settimane scorse si erano registrati anche in altri quartieri cittadini. Si tratta di professionisti capaci di forzare le portiere e manomettere le centraline, riuscendo a innescare l'accensione senza l'uso della chiave. Questa zona, quella di Cellette e Pentagono, è poi particolarmente sensibile. Proprio un anno fa le nostre telecamere si accesero qui più volte per rispondere alle segnalazioni dei residenti che denunciavano atti vandalici ai finestrini delle auto nello stesso parcheggio. Segnalazioni che furono corredate anche da una raccolta firme per richiedere l'installazione di sistemi di videoserveglianza. Raccolta firme che fu poi inviata a Comune e Prefettura, ma richieste ancora non soddisfatte per la frustrazione dei residenti.